benvenuti in uno video in questo video vi porto a warmate.io prima di cominciare il video vi dite di sfruttare al canale la città questa volta nel video e ragazzi prima di cominciare il video io ringrazio il mio amico che è il mio amico che mi ha consigliato 10 giochi si ragazzi quell'amico e lo ringrazio e ragazzi adesso partiamo e sapete ragazzi quel mio amico ragazzi comunque vi dico è un gioco tipo di serpente aiuto ragazzi i comandi vi giuro non so partito così cosa vi dico ecco c'è quello che vi sta dicendo io ragazzi non capisco ma ma c'è il mio amico che mi ha consigliato 10 giochi speriamo che io ragazzi non so da dove trova questi questi tipi di giochi cioè ragazzi sono sorpresa vi giuro se questi di questi giochi che io vi porto dal cellulare in realtà a sì vabbè c'è i giochi che vi porto dal telefono di ragazzi di solito mi consigliano i miei amici io ragazzi non riesco a trovare questi tipi questi tipi di giochi io ragazzi di solito i giochi li porto dal pc quindi quindi cosa vi dico cioè così ragazzi io ragazzi in realtà io qualche volta cerco cerco di trovare i giochi cioè cerco cerco di trovare i giochi ma io ragazzi non li trovo ma c'è e i miei amici lo trovano e poi mi dice guarda porta questo gioco porta quello gioco e in realtà ragazzi ringrazio anche a loro perché perché se adesso loro non mi consigliassero io io vi giuro c'è questi tipi di giochi giuro c'è questi tipi di giochi non non li trovavo ecco dai ragazzi ora meglio ora meglio no ma posso cambiare anche il cosa no ragazzi perché guardate quando io metto questo no e quando metto quello del dita ragazzi non riesco ma dai chi il comanda questo dai adesso ragazzi è meglio mi sento adesso meglio poi intanto cerchiamo si chi quanto grande è questo anche ragazzi cerchiamo di diventare come 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 cosa era successo avete visto mi sono è staccato malissimo si c'e sembra che quello la ragazzia sia fatale non è che mi ha circondato vediamo vediamo cosa sta succedendo dimmi che non mi mi ha maledizione mi ha circondato mi ha circondato si mancava solo questo vediamo se riusciamo a uscire no non lo so perché mi vago vago capito noi in trezzi morivamo comunque in trezzi noi in trezzi cerchiamo di diventare il serpente il serpente più grande se riusciamo a diventare dobbiamo comunque mangiare queste robe per diventare cosa sta succedendo non lo so perché si stacca in realtà in realtà ragazzi il telefono che ho io vi giuro che potete guardare i video in 4k vi ricordate che avevo fatto avevo fatto avevo fatto no 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 si vi ricordate che avevo fatto un video su adesso il mio telefono vi avevo fatto anche vedere che si può guardare cioè quando vi guardate un video potete guardarlo in 4k cioè ragazzi si per un pelo si muore a partire si cambia il controller cioè quello che ragazzi intende dire è che se avete visto no 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 aiuta si alla fine sono morto e c'è ragazzi io wow quante si vai così adesso comando io vai così vai così comunque ragazzi quello che io intendo a dire c'è ragazzi quello che intendo a dire è che se voi potete guardare con il mio telefono se voi potete guardare i video in 4k significa che potete giocare anche i giochi tranquillamente ma perchè se avete visto che mi stava mi staccava il coso il serpente mi dicevo per quello significa che c'è non dovevo non dovevo laggarlo non deve laggarlo vediamo se possiamo no no mi sono succidata si dai c'ero quasi ecco guardate mi mi si mi è staccava perchè perchè dai si mangia tutto e difentiamo il serpente più grande del mondo c'eravamo abbastanza grandi noi ragazzi siete altra volta succede guarda 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 mi sta cosa sta guarda guarda un'altra volta succede una roba di quel genere io ragazzi chiudo il gioco cosa il gioco è così o o mi sta guarda mi sta bug mi sta buggando di tutto ahhh cosa mi spiace cosa la situata controllo no ragazzi tutto ok tutto ok perchè comunque grazie io vi concludo con il video se vi è piaciuto allora lasciate al canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ciao